Ciao a tutti ed eccomi qua in itomo, ecco c'è la foto del giorno, manchi solo tu, magari essere in spiaggia, raccogliamo il bonus del giorno, mille monete mosse, sono state aggiunte nuove funzioni, puoi ottenere 5 biglietti in my nintendo con meno punti, oh ecco quello ci piace perché sono a conto, articoli di vestito aggiunti oggi, oh comunque andiamo a vedere, prima di tutto, allora io andrei a vedere subito subito, a riscuotere i soldini, bene, nella scatola dei regali, ricezione, ecco qui siamo un po' più ricchi, questo bonus ci voleva di mille stelle, sono da 5.095, chissà se posso acquistare qualche bel completo che magari è arrivato oggi, intanto ti schietta a twitter, allora premi, visto che questi sono i premi, ci sarebbe anche l'elmo da vichingo, però vedo che qui offerta limitata dei biglietti, compriamoli, dovrei farcela, dovrei farcela, sì infatti se ce la posso fare, lo prendiamo, usiamo e via, a buon fine, ok e torniamocene indietro, costruite si sarebbe però, e anche l'elmo da vichingo, no no, per adesso mi servono per gli sganciami i buoni e andiamo, allora prima di tutto andiamo al negozio, andiamo subito al negozio a vedere, dovevo riscattare i biglietti, va bene i nuovi articoli, oh ma ho visto che negli sganciami ora c'è la principe, invece la principessa e dopo lo guardiamo, adesso con calma facciamo rigenare e andiamo nel negozio con calma, non avere fretta, carica pure con calma abbiamo questa maglia qui che io ce l'ho già viola, la gonnellina di questi colori che ho già di altri tipi di colore qui cos'è questo vestito molto confettoso e rosa e qui cos'è il completo da rocker, no no da star forse, da rockstar, non mi piace bianco ci sarebbe quello da pirata che è molto bello sinceramente, però no via, non c'è quel completo per cui dico no lo devo vedere niente niente, quindi ci fermiamo e continuiamo, torniamo indietro, niente acquisti oggi perfetto, vediamo allora, fronzoli di gran gala per tutti, moda principesca e poi c'è quella dello spazio, aiuto, oh c'è sempre quella di splatoon comunque io direi di provare subito la fronzoli della moda di gala andiamo a vedere se riesco a beccarmi un bel vestitone da serata super super principesca oh vediamo, così, da qui, ho deciso, una partita, oh sei buone, vai aspetta sganciami, ecco sbagliato, dai dai dai, su, su, no, pensavo ci avevo creduto no, cioè veramente, no, cioè no, veramente, la corossina si, dai, tira gli la bota e che stress, queste caramelle, veramente, veramente, queste caramelle sono veramente odiose un'altra partita, veramente, a me, queste caramelle, che cosa, inutile, dimostrare un po' di nervosesmo ok, ci ritrovo, allora, tanto sgancio un po' verso sinistra e poi sgancio, bene ne, questa volta proprio niente questa volta, anche su, per scaramella direi, questa volta basta queste caramelle inutili basta, due tentativi, basta mi fermo mi fermo ma no, questo è maschile non ci interessa vediamo di qua dai ok, qui oh, cos'è questo? sembra vestito da sirena ma cos'è, è sempre gala, perché vedo questo bel vestito questo è veramente difficile e non ce la farò mai ma mai, eh, ma mai, allora, già, che so, che non ce la farò mai me ne vado, eh, quelle caramelle mi mettano un nervoso supremo oh, qui, cos'è, ah, qui siamo in vestiti dello spazio vediamo ci provo sì, dai, l'ultima prova, eh qui no, c'era quasi mi fa nervoso quando lo figli così sì, ho vinto qualcosa anche la spilla va bene basta vincere qualcosa che non sia una caramella spilla Saturno perfetto spilla Saturno lo prendo di questo colore qua già ce lo sento vai ok e dopo aver vinto qualcosa basta, basta mi fermo bisogna finire sempre quando il bilancio è positivo e quindi stop benissimo vediamo qua anzi guarda roba me la vado subito a mettere anche se c'ho la spilla di Splatoon che mi piace un sacco vedete, ho anche questa nuova papalina però andiamo a metterci subito, subito la spilla Saturno eccola qua oh, meno male poi che cosa che abbiamo vestito per prendere i punti giornalieri e mi metto questa maglietta qui cioè questa gonnellina qui la maglietta questa qui vai perfetto ok cambio ogni volta al giorno bene vuoi scattare una foto? no poi tanto poi me la propone lui una casuale e torniamo indietro con calma come sempre non abbiate non abbiate furia oh, bene allora andiamo a vedere qualche domanda vostro non c'è oggi nessun ospite ma perché c'è questo puntino rosso ah, la scatola del regale vabbè che ho già utilizzato tra l'altro dei buoni vabbè davano a quel puntino allora le ho riscattate ottimo, ottimo, ottimo è il momento di sentire le domande anche le vostre no, le mie risposte qui, qui, qui oh, mi sembra un cartato ciao ciao, sosia sentiamo un po' chi ha risposto alle domande sai cosa ha risposto Sofia? quando le ho c'è il ritardo che mi piace non se prego ok, perfetto gli metto anche questo non niente vai, al prossimo grazie ma prego ho chiesto a me una quale celebrità assomiglio a parere sua e sai che ha risposto un minore eh, vabbè nemmeno io lo so no, scherzo no, effettivamente non lo so secondo Joelle trascorro la maggior parte del mio tempo editi in video non proprio, però cresci o mangi piccola nessuno dei due benissimo nessuno dei due, ragazzi sai cosa ha risposto di Struppe quando le ho chiesto quale fosse quale fosse? secondo lei la celebrità che mi piace eh, no, no sì che celebrità una delle celebrità che mi piace sono bravi ho chiesto a chi due a breve in vacanza con me lei ha risposto in America va benissimo anche in America mettiamo il like grazie ma prego ancora ho chiesto a Manuel quale secondo lui fosse la mitostica più interessante lui ha risposto così e molto intelligente grazie anche senza conoscermi a fiducia interrompiamo a proposito sì, sentiamo questa foto è stata scattata recentemente va bene è venuta lo sapevo no, no non la voglio non mi piace niente timidezza non salvare lo sapevo che me la faceva da lei lo sapevo lo sapevo questa mascalzona vediamo le mie risposte hai qualche segreto per rendere la vita più semplice se sì quale? magari no infatti ho solo una risposta magari sapessi qualche segreto e invece niente poi vediamo vediamo altre risposte interessanti qua è il posto preferito per rilassarti il letto e vediamo le vostre risposte sentiamole sentiamole il divano è il mio padre esatto divano i ben contagiati sì come stile sono in mano facciatine fritte fotte folle ci picchia miam miam sarebbe il paradiso eh eh il letto uh attenzione puntino rosso è apparso qua chi è? Olivia che mi chiede l'abituizia e allora accettiamola io accetto tutti ok chi è questo vestito da cane scusa sono curiosa ciao quindi si va ho chiesto a Luca quale celebriciano meglio a parere suo e sai che ha risposto io non saprei nemmeno io lo saprei hai detto giusto rinterrompiamo sentiamo quando senti la parola principessa ti viene in mente per prima e chi mi viene in mente per prima a me non è venuto in mente nessuno principessa eh boh il film di Benigni una bella vita Benigni eccolo qui vai perfetto così per spiazzare tutti non mi viene 15 punti per noi bene benissimo allora ho risposto a qualche ho una domanda ho selezionato qualche risposta vostra cioè mi ha selezionato la mia sosia qua all'interno di mitomo dove vai sosia eh benissimo allora a questo punto io direi che per oggi la puntata di mitomo è giunta al termine spero che vi sia piaciuto il video se è così stato mi raccomando mettete un mi piace commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto adesso uno ciao a tutti alla prossima eccola qua che pascoleggia nella mia camera alla mia sosia ciao 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 ciao